Il senso è quello che finalmente iniziamo a collaborare con le attività economiche della nostra città, nello specifico con i commercianti. Grazie a loro siamo riusciti a dare un senso a questo Natale e anche a fare delle iniziative che meritano una rappresentanza. Abbiamo concordato soprattutto con loro, infatti merita evidenza l'iniziativa Resto in città, che si farà nelle vigili sia di Natale che quella di Capodanno, dove ci saranno iniziative musicali nel centro storico e con una particolare attenzione quest'anno anche all'ambiente.